Premo il tasto su, adesso stanno canali tv, Rai Storia, ecco, non funziona, ho fatto la ricerca da poco, ecco, diventa tutto nero, ecco, qui continua a girare l'aggeggio qua, e questo non funziona niente, si vede Rai Storia HD, no, ecco, diventa nero, qua continua a non vedersi, si vede? Il televisore è questo, è il TCL 40 eccetera, ecco, si vede Rai Storia? No, quindi è incompatibile col nuovo sistema, ed è collegato a internet, ecco, non si vede niente, una cippa, lo vedete? Ecco, TCL. Ecco, TCL. Grazie.